Il nostro inviato Sky, Scali Simone, a te è la linea. Simone? Simone? Simo! Oh, ma sono in linea? Sì. Ma porca pazzate, ogni volta, cazzo! Va bene, ragazzi, posso parlare? Sì, sì. Siamo in diretta al comunale di Zibi di San Giacomo, dove lo Zibi di San Giacomo cosa ha fatto? Ha raccolto tre punti importanti. Sotto l'acqua, con il fango, con gioia, con grinza, con sudore, con entusiasmo. I tre punti sono qua, guardate, in saccoccia. Uno, due, tre. E niente, ragazzi, siamo qua, aspettiamo se esce qualcuno e ci racconta un po' della partita. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Oh, eh, eh, eh. Ciao, buro. Oggi con noi abbiamo Jacopo Calvi che secondo me è stato decisivo. Io gli darei a lui lo scefro di Uomo Sky. Allora, Jacopo, com'è andata la partita? Innanzitutto buonasera a tutti. Buonasera. La partita sta molto, molto dura. Abbiamo raccolto tre punti importantissimi perché ci hanno consentito di sorpassare il Santa Rita. E quindi siamo molto felici e continueremo a lavorare così per andare avanti in questo campionato che è veramente duro. Se no ce la metteremo tutti. Che giocatore? Ma io non ho capito una cosa. Poi so che è di fretta, deve andare alla cena dalla moglie, i bambini, deve studiare, leonatica. Sono un po' di fretta anche perché è tardi. Andiamo l'aereo che parte. Ma io non ho capito una cosa. Ma ci può dire qual è il suo bel ruolo? Perché terzino, centrocampista, laterale, addirittura a quella addosca. No, mi faccia finire per cortesia. Perché se no se ne avessi a finire dei marcatori, si via là in cima. Senso un'ora. No, no, ve lo so. Mi lascio a disposizione della squadra del mister e vado a ricoprire tutti i ruoli che mi chiedono di fare. Quindi siamo a completa disposizione. Sì, però è una domanda un po' scomoda. Adesso a gennaio sa che si avvicina. Ho sentito che iniziano delle voci di mercato fastidiosi. No, non ci sono niente di vero. Se vuole salire, se vuole puntare qualcosa, lei deve rimanere. Posso smentire, non ci inserire. Ah, smentisce tutti? Sì, sì, sono... Che bella notizia, ragazzi. Vado a dormire col sorriso. Vado a dormire col sorriso questa notte. Stiamo a ridiscutere il contratto, ma comunque... Che gioia. È una cosa già fatta. Che giocatore. Niente, ragazzi, c'è ancora sorriso, c'è ancora felicità, c'è ancora armonia. C'è grande sorriso. C'è un grande sorriso. Però, ragazzi, la strada è ancora lunga. Guardate la salita. Inquadra la salita. Uuuuh! Che salita! Noi praticamente siamo qui, vedete? Allora, noi siamo partiti, abbiamo fatto il manvio buono male. Siamo saliti. Poi siamo scendi, poi siamo... Oh! un'altalena, un'altalena, insomma. E se noi siamo qua, meglio altro, dobbiamo arrivare qua, insomma. Però se non è stato attento, perché se cadiamo, torniamo ancora giù. Quindi, avanti così, con lavoro in settimana, speriamo di recuperare qualche infortunato, perché c'è bisogno di tutto. Assolutamente. Mi stai guardando. No, mi sta facendo segno che è ora di andare. C'è un po' di fretta. Vabbè, lo possiamo andare? Sì, sì. Dallo studio? Domande? Sempre a Federico. Grandi partiti, grandi soffasso. Muro? Sperimenti al tibido e al padre Pio. Ripeti? Padre Pio. eh! Padre Pio! Padre Pio, eh! Padre Pio, eh! Sì, lo salutiamo. Oh, grande giocatore. Ciao, Jacopo. Alla domenica prossima. Alla prossima, ragazzi. Ciao, Sì, ciao. Ciao, ciao.